Ospite di questa puntata di Motore Italia è Angelo Galeati che è l'amministratore delegato della società per azioni Sabelli. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Dunque ci racconti un po', ci faccia capire, faccia capire anche da casa che società è Galeati. Siete nati nel 1921, se non erro, di che cosa vi occupate? Come siete cresciuti? Il Casificio Sabelli è un'impresa lattiero-casiaria di matrice familiare. All'interno lavorano tre generazioni. Ha tutte quelle che sono le caratteristiche di un'impresa familiare, quindi pregi e difetti di una dinamica decisionale lenta ma costante nel tempo. L'attività iniziò con mio nonno, quando ancora era piccolo, nel 1921, in Sud Italia. Decise poi di trasferirla al centro Italia alla ricerca di latte e un po' anche alla ricerca di fortuna. Oggi l'azienda si trova nella zona industriale di Ascoli Piceno sotto forma di SPA. Abbiamo un fatturato di circa 70 milioni di euro e insomma ci andiamo e ci proiettiamo verso il mercato delle medie imprese. Siete una media impresa, quindi immagino che il vostro numero di dipendenti sia ben superiore rispetto a quel discrimine di 15, altrimenti avreste una produttività monstra. Quanti siete? Esatto. In questo momento la Sabella SPA conta dai 180 ai 200 dipendenti circa, a seconda della stagionalità. È molto interessante quello che ha detto lei, un processo decisionale lento, i famosi consigli di amministrazione intorno al tavolo da cucina. Quanto conta essere ancora una famiglia con dei valori nella vostra impostazione della strategia aziendale e dove state andando? Conta molto perché il senso di responsabilità delle cose che hanno creato chi è venuto prima di noi è molto importante. Noi lo portiamo dentro cercando di portare avanti in maniera molto sostenibile l'azienda senza fare passi falsi o creare troppo indebitamento. Stiamo andando sicuramente verso una strada molto virtuosa che porterà comunque agli sviluppi di fatturati verso nuovi mercati con nuove referenze. Quando parla di nuovi mercati, nuove referenze a che cosa guardate? Ci sono delle aree geografiche in particolare, puntate su Europa, siete su determinati emergenti? In questo momento puntiamo molto su Europa perché i prodotti che facciamo comunque sia vengono molto richiesti dal mercato europeo e sicuramente tutta la burocrazia doganale ci impedisce un po' di poter affacciarsi verso nuovi mercati oltreoceano. Comunque sia ancora l'Europa è un motore molto dinamico per l'acquisto dei nostri prodotti e contiamo comunque di sviluppare questi tipi di mercati nei prossimi anni. Tra gli emergenti quale preferite? Magari qualche conversazione preliminare? Già l'avete fatta sul mercato dove vedete delle potenzialità. Se poteste scegliere? Assolutamente. Già contatti ci sono stati con l'America, in particolare gli stati caldi del sud, quindi Florida o California. Ci sono stati contatti con Dubai dove l'interesse verso i nostri prodotti è molto molto alto, soprattutto per quelle che sono le cosiddette tradizioni gastronomiche, quindi oltre la mozzarella, le burrate, le stracciatelle che sono prodotti anche se per noi di grande tradizione e per l'estero molto innovativi. Tra l'altro ancora una volta è molto significativo quello che lei mi dice magari in maniera inconsapevole. tra gli emergenti, ha citato gli Stati Uniti, che non lo sono ma hanno un tasso di crescita intorno al 4%, comunque ragguardevole e sono un mercato fondamentale. Esatto, esattamente. Basti pensare alla popolazione che c'è e l'interesse che c'è verso il made in Italy e ciò che è tradizione alimentare e sto parlando di dieta mediterranea. Ecco, le industrie attive nel comparto del caseario e di caseifici ce ne sono molti. in Italia, molti sono concentrati anche nella zona della bassa pianura padana, voi invece siete più in una zona diversa, a Scolipiceno, quindi stiamo parlando di centro Italia. Qual è la vostra idea killer, vincente, che vi ha permesso di crescere in maniera così esponenziale e di arrivare a più di 180 dipendenti? Sicuramente ci siamo abbassati su una politica di marketing abbastanza serrata che va ad identificare l'azienda con il proprio territorio. Il nostro brand principale è Sabelli Fior di Gran Sasso, questo perché raccogliamo la gran parte del nostro latte all'ombra del Parco del Gran Sasso e dei Monti Sibillini. Poi sicuramente siamo riusciti negli anni a differenziare con diverse categorie merciologiche, come per esempio la mozzarella per pizza o anche le tradizioni gastronomiche, come le dicevo prima, come la burrata e la stracciatella. Queste sono riuscite a superare l'impassa della mozzarella classica che ormai sta diventando una commodity, rendendo possibili gli sviluppi che l'azienda ha avuto. Quindi un clima anche favorevole, ricordiamo, tra le zone più fresche d'Italia, quella sotto il Gran Sasso. Vediamo anche la facilità di fare impresa. Lei è un imprenditore, l'amministratore delegato, ma di un'impresa familiare, si ricorda come era l'impresa da bambino. Le condizioni di fare impresa nell'Italia del 2015, dopo due esecutivi di fatto tecnici, e quel Lorenzi subentrato, sono migliorate oppure abbiamo ancora molto da fare? E le chiedo anche quale misura le implementerebbe se fosse il governo? Guardi, negli ultimi due anni ancora non è cambiato nulla sicuramente per le imprese. Tutta la politica dello Stato si sta concentrando verso il singolo cittadino, verso le persone fisiche, mentre le imprese ancora sono alle porte aspettando debrucarizzazione, abbassamento delle tasse e comunque sia un generale diminuizione di quello che è il cuneo fiscale e che oggi insomma fa pesare molto il costo del personale. C'è un Renzi che però poco fa ha annunciato una sforbiciatina dell'IRES nel 2016, che non fa mai male. Assolutamente, assolutamente. Diciamo, quello che pesa di più non è tanto avere dei cortati propri utili del 50% e oltre. Quello che pesa di più è sicuramente il costo del personale perché non potendo assumere comunque non si crea moltiplicazione di ricchezza e quindi l'economia è ferma. Sul fronte Jobs Act che è stato in parte implementato proprio per risolvere questa impasse con dei contributi per i primi tre anni a vantaggio delle aziende, è uno strumento che avete utilizzato o si è rivelato inefficace nelle vostre strategie di espansione? È uno strumento che abbiamo utilizzato proprio quest'anno e diciamo ci ha reso possibile poter assumere a tempo indeterminato molte più persone rispetto a quelle che normalmente potevamo assumere perché appunto una maggiore elasticità in ingresso del lavoratore ci permette di prendere molto più a cuor leggero gli aumenti e le diminuzioni di personale all'interno dell'azienda. Venendo ancora alla vostra azienda, quali sono le prospettive per il futuro in termini di fatturato? Avete già delle strategie, vi siete già fatti delle idee su come sfruttare la ripresa economica anche per incrementare le vostre vendite? Oggi noi non possiamo parlare di ripresa economica per vendere i nostri prodotti perché fondamentalmente producendo prodotti alimentari comunque sia beneficiano di un consumo comunque costante. il mercato si divide comunque tra player molto grandi e medie imprese che lottano per pochi punti percentuali di mercato all'interno del comparto Italia. La strategia sicuramente vincente è quella di andare a sviluppare in maniera più massiccia tutte quelle che sono delle referenze che i nostri più grandi competitor non riescono a copiare e andare con queste a colonizzare tutti i mercati esteri che sono ancora freschi e ancora desiderosi di prodotti innovativi e quindi riuscire a sviluppare nei prossimi anni un ulteriore fatturato. Ecco una provocazione, voi fatturate circa 70 milioni di euro, è corretto. Grom ne fatturà 67, è un'azienda molto innovativa, nata nel 2003, è stata ceduta agli anglo-olandesi di Unilever. Se arrivasse una grande multinazionale, una Galbani o ancora di più, una Danone o ancora altri nomi, voi sareste pronti a cedere il vostro business familiare di fronte ad una offerta molto importante oppure volete continuare a rischiare? No, noi vorremmo continuare a rischiare anche perché in passato è già successo e ci sono state grosse, diciamo, grossi confronti all'interno della famiglia sulle opportunità che potevano creare. Soprattutto non tanto da altri player nel settore ma di fonti di investimento che volevano entrare all'interno del capitale. Noi sinceramente ci sentiamo ancora di andare avanti da soli. Quindi il vostro azionariato è integralmente in mano alla vostra famiglia? Esatto. Nessun fondo di investimento o comunque nessun investitore straniero che possa inficiare le vostre strategie? Mi diceva che non si può ancora parlare di ripresa, la crescita del Pile è data da tre fattori determinanti, gli investimenti diretti esteri, i consumi e le esportazioni. Gli investimenti sembrano andare abbastanza bene in ripresina, benissimo le esportazioni. Secondo lei i consumi quando torneranno ad un livello del 2007? Sicuramente parlando diciamo di politica economica nazionale c'è bisogno di ancora sforzi da parte del governo per ridurre le tasse e cercare di invogliare il consumatore ad acquistare di più, sicuramente. Qual è la cosa più difficile per un imprenditore in Italia in questo momento? Probabilmente resistere, resistere in questo momento. Noi come si suol dire siamo riusciti a tenere botta fino adesso, aspettiamo che inizi la discesa. È da molto tempo che resistete quindi è una fase che perdura da un po'? Assolutamente sì, veniamo da una crisi del credito dove le banche non davano più denaro per poter continuare a investire, veniamo comunque da una crisi dei consumi dove il consumatore è molto più restito ad acquistare, anche prodotti alimentari. Quindi sicuramente attendiamo fiduciosi il momento della ripresa dei consumi. In generale in questo spazio noi facciamo vedere molte storie di imprenditori che hanno delle aziende che sono nate con poco e sono cresciute a importanti livelli. Un fatturato di 70 milioni di euro era guardevolissimo. Che consiglio darebbe a un ragazzo che ha una buona idea, è convinto della bontà della sua idea e ha la pazzia forse di rischiare con tutti i problemi che ci sono di accesso al credito e ancora di congiuntura anemica? Qual è il consiglio? Oggi oltre naturalmente ad avere un'idea brillante ci vuole molta fiducia. Anche se il mercato non ce lo permette ma il primo fondamento per un ragazzo come lo sta citando lei è sicuramente la fiducia verso il nostro Stato, la fiducia verso il mercato e soprattutto nelle proprie possibilità. C'è qualcosa che farebbe diversamente se tornassi indietro? Ma no, assolutamente. Sono molto contento del nostro percorso, del percorso familiare. Sicuramente piccole scelte sarebbero potute essere diverse col senno di poi, ma fondamentalmente condividendo tutto quello che facciamo all'interno dell'azienda tutti insieme non ho rancori. Grazie allora ad Angelo Galeati che è l'amministratore delegato della Società per Azioni Galeati. Sabelli, scusate. Sabelli, grazie ancora e buona giornata. È tutto per questa rubrica di Motoritari. Grazie a tutti.